Ci troviamo a Prato, nella Villa del Palco, un bellissimo convento che fu francescano, a fare un ritiro per poter affrontare la ferita del lutto, una ferita che è stata molto acuita dai tempi della pandemia. E questo all'interno della sedicesima edizione della rassegna Il rumore del lutto, visto da Mariangela Gelati, collega all'Università di Padova, che tra l'altro ci ha fatto un bellissimo dono, conferendo un premio segnali di vita per il servizio reso alle persone che soffrono, che hanno perso il senso della vita, che non sanno dare risposta alla morte. Nella rassegna di quest'anno, che è intitolata Curami, vogliamo prenderci cura, prenderci a cuore, le persone che hanno una ferita di un lutto, che non sanno affrontare integralmente, perché è una civiltà che escludendo morte, sofferenza, vecchiaia, dolore, e cercando di anestetizzarci rispetto a qualsiasi domanda sul senso della vita, favolisce anche la creazione di sacchi di dolore, di cui nessuno si prende cura fino in fondo. Ma la speranza, come tutto il popolo sa, è l'ultima a morire. E se noi sappiamo ridare speranza di fronte alla morte, possiamo trasformare la morte in vita. Ma bisogna avere anche un respiro ampio, un respiro spirituale, che ci permetta, con un taglio anche solo antropologico, non necessariamente confessionale, di capire che la morte non è all'opposto della vita, è dentro la vita stessa. E dentro questa esperienza che l'antropologia ci offre, che la storia dei popoli ci offrono, che i grandi sapienti ci offrono, possiamo poi ognuno, in base alle proprie convinzioni, anche dare un grande contributo alla propria religiosità. Io sono convintamente cristiano, ma proprio per questo abbraccio chiunque oggi è alla ricerca del senso della vita, soprattutto provocato a dei grandi interrogativi che la sofferenza pone. Sono convinto che come il sole, tramontando e risorge, questi tempi che per molto sono bui, possono preludere a un mondo molto migliore di quello che ci siamo lasciati alle spalle. Ma questo dipenderà dalla capacità di tutti di sognare e di poter sognare la bellezza che già abbiamo dentro, perché c'è stata donata dal più bello di tutti, che ha creato la meraviglia e l'incanto di tutto ciò che ci circonda. Cerchiamo di fissare lo sguardo sulla bellezza e le ombre della morte svaniranno. Grazie a tutti.